Benvenuti al nostro TG Sport cari amici di Telemolisse per il calcio regionale squadre già in campo per il ritorno dei quarti di Coppa Italia per un recupero d'eccellenza per la competizione tricolore a Selvapiana si sta giocando campo basso di Palimosani 0 a 0 all'andata e diretta sul canale 18 Telemolisse 2 al Colalillo si gioca Boiano Alto Casertano mentre il campo marino è in campo contro la Turris in entrambi i casi le formazioni ospiti partono dall'1 a 0 dell'andata rinviata mercoledì prossimo il ritorno tra Iserni e Venafo e Bianco Celesti di Mister Debellis sono impegnati sempre all'Ancellotta per il recupero contro il Guglionesi gara valida per l'undicesima d'andata non giocata domenica scorsa nel TG Sport di questa sera gli aggiornamenti in campo anche il calcio a 5 di Serie A2 questa sera alle 21 il Cusso Molise recupera la sfida contro Genzano ancora assente per infortunio il capitano Di Stefano calcio di Serie D il Vasto Girardi al lavoro per un doppio turno in trasferta il Matese invece dopo 180 minuti giocati lontani dal Ferrante domenica tornerà con il favore del campo il Termoli ancora alla ricerca della prima vittoria stagionale troppa a San Benedettese per il Termoli un punto guadagnato per il Matese e due punti persi per il Vasto Girardi in questo modo potrebbe essere riassunto il weekend di campionato appena andato in archivio 12 giornate giocate ed il Termoli ancora non riesce ad ottenere la prima vittoria stagionale dopo 6 pareggi consecutivi ed un ottimo momento di forma è arrivata la netta sconfitta al Riviera delle Palme di San Benedetto del Tronto 3-0 in favore della squadra di casa sulla cui panchina è tornato a sedere mister Alfonsi esonerato ad inizio ottobre richiamato nella speranza di risollevare le sorti della Samba dopo la sconfitta di Vasto bisogna ammettere che il risultato finale è troppo pesante per il Termoli la partita è stata ben giocata dai ragazzi giallorossi specialmente nel primo tempo terminato a reti inviolate e nel quale gli aderatici hanno creato due buone occasioni da gol nel secondo tempo è salito in cattedra Cardella che con una doppietta ha indirizzato il match due gol di pregevole fattura che hanno messo in mostra tutto il suo repertorio e che hanno consentito di rompere l'equilibrio di una partita ostica peccato perché il Termoli è stato presente sul campo con la testa e con ottime trame di gioco una sconfitta che fa male per come è arrivata ma che testimoni e notevoli passi in avanti fatti da una squadra molto giovane rispetto all'inizio campionato andare al Riviera delle Palme e imporre per buona parte del match il proprio gioco non è da tutti da questo deve ripartire mister Esposito che al termine del match ha fatto anche il punto sul mercato di dicembre la società sa quali sono le necessità e le richieste dell'allenatore farà di tutto per accontentarlo e potenziare la rosa prima del mercato però c'è la partita contro il Monte Giorgio un crocevia fondamentale in ottica salvezza nella giornata di lunedì anche il presidente è stato vicino alla squadra facendo sentire la propria fiducia e chiamando a raccolta l'intero ambiente termolese un punto che accontenta più il Matese che il Vasso Girardi questo è quanto emerge dalla sfida del Ditella gli uomini di Urbano sono soddisfatti del punto conquistato soprattutto alla luce delle tante assenze nel reparto avanzato Napoletano squalificato Esposito fermato da uno stiramento e Salatino a mezzo servizio solo nel secondo tempo un pareggio accolto con entusiasmo e che consente di proseguire la striscia dei risultati utili che dura ormai dal 9 ottobre e che ha portato in dote ben 17 punti in 7 partite in settimana saranno valutate le condizioni del fantasista di San Martino in Pensilis lavoro serrato in tandem con lo staff sanitario l'obiettivo è quello di cercare il recupero Lampo di Esposito per la gara interna contro la Vigor Senigallia che viaggia a gonfie vele dopo la vittoria nello scontro diretto contro il Fano ed il terzo posto in solitaria in classifica una partita che promette spettacolo sicuramente un avversario in ottimo stato di forma è scomodo da affrontare ma il Matese ha intenzione di accorciare sulla zona playoff e in tale ottica gli scontri diretti hanno un peso specifico elevato manca ormai da troppo tempo la vittoria in casa Vasto Girardi e precisamente dalla sesta giornata di campionato i numeri nel calcio sono importanti e testimoniano una duplice marcia della squadra alto molisana nelle prime sei di campionato i gialloblu hanno raccolto 13 punti nelle seconde sei soltanto 5 il dato positivo è che in questo periodo di leggera flessione il Vasto Girardi ha concesso pochi punti alle altre squadre infatti ha perso soltanto una partita contro la Vastese e ha collezionato ben 5 pareggi il dato negativo è l'evidente involuzione sotto porta le partite sono state giocate sempre a buoni ritmi e con un'ottima intensità ma le occasioni da golle sciupate cominciano ad essere tante rispetto alla mole di gioco prodotta fondamentale sarà recuperare lucidità ed un po' di concretezza negli ultimi metri il calendario prevede un doppio turno in trasferta che comincerà domenica quando si viaggerà alla volta di Avezzano 5 gare da qui alla pausa natalizia 3 in trasferta e 2 in casa per cercare di incrementare il bottino di punti e vivere la sosta nella massima serenità palla polo maschile di serie B cambio di orario per la prossima partita interna dell'Energy Time Spike Devils sabato con primo servizio alle 19.30 alla palestra dell'istituto Montini Pertini Cuoco i rosso-blu ospiteranno il Cus Cagliari molisani secondi in classifica seguiti proprio dai sardi a meno 3 ingresso al palazzetto gratuito calcio giovanile ancora un appuntamento con i tecnici del Milan Academy per la scuola calcio i Sanniti ieri nel Molise mister Caniato oggi allenatore con una lunga carriera in serie A tra cui Torino e Udinese e con la nazionale Under 20 ha partecipato ai mondiali del 1987 Mister Massimiliano Caniato in Molise a Campobasso in visita alla scuola calcio Sanniti quali gli obiettivi di questa visita? guarda il primo obiettivo che mi pongo ma che ci poniamo come filosofia di club è quello che innanzitutto i nostri ragazzi siano bene vengano all'allenamento sorridendo e questo è il nostro primo successo di fatti nell'introduzione quando sono arrivato parlando con i ragazzi parlavo proprio di questo poi l'obiettivo è quello logicamente di implementare quello che è un po' la nostra filosofia la nostra metodologia e visto che Sanniti è il primo anno che si affaccia come Academy con il nostro club speriamo e siamo convinti di poter fare nel lungo periodo un ottimo lavoro un'affiliazione importante per la nostra regione per questa realtà dei Sanniti tu sei preparatore dei portieri ecco quanto è importante il lavoro nei giovani per quanto riguarda chi si appresta a vivere tra i pali le affiliazioni le affiliazioni sono sempre importantissime in qualsiasi regione d'Italia perché entrano a far parte della nostra famiglia la famiglia rossonera e questo ci dà grossa soddisfazione abbiamo un buon seguito perché siamo intorno alle 90 affiliazioni in Italia più quelle all'estero e quindi siamo orgogliosi e felici di questa cosa la speranza è quella ripeto di continuare a trasmettere ai nostri ragazzi con il tempo dovuto senza grosse illusioni l'opportunità di essere seguiti dal nostro club e di implementare la nostra filosofia ripeto è con grosso orgoglio che noi facciamo questa cosa che io in primis faccio questa cosa nello specifico per i portieri perché sarebbe molto bello negli anni riuscire a vedere i nostri ragazzi crescere magari perché no riuscire a portarne qualcuno a calmina il ruolo del portiere si dice che sia particolare che il portiere è sempre solo tu cosa ne pensi al riguardo si dici bene è molto particolare se posso permettermi ti correggo su una cosa non è più solo perché negli ultimi anni è stato finalmente integrato al gioco al gioco della squadra e di conseguenza non vediamo più dei goalkeeper come li chiamavano fino a un po' di tempo fa ma guardiamo dei goal player cioè portieri che interagiscono con il resto e la squadra e soprattutto interagiscono con il gioco e questo permette soprattutto i più piccoli di iniziare nelle fasce più giovani più piccole di partecipare di essere integrati con il lavoro che fa la squadra e quindi di comprendere al meglio il gioco sin da piccoli Sanniti in realtà è importante come dicevamo della nostra regione è la prima del Molise affidata al Milan cosa può nascere da questa collaborazione? guarda ripeto la speranza nostra è quella di riuscire a trasmettere entusiasmo perché credo che Sanniti si avvicini al Milan proprio per questo motivo per portare un marchio che è importante che è internazionale ma per creare entusiasmo soprattutto nella crescita dei ragazzi quello che può nascere ripeto con i giovani non si sa mai perché ci sono aspetti talmente positive di proiezione con loro che ahimè intravedere un futuro l'importante è che crescano bene che crescano sani che si divertano e che crescano con la nostra filosofia perché insomma siamo un po' orgogliosi del lavoro che facciamo anche noi come tecnici nuoto questo pomeriggio alle 17.30 verrà presentata l'undicesima edizione del Memorial Don Guglielmo meeting nazionale di scena sabato e domenica nella piscina del centro sportivo M2 di Campo di Pietra la manifestazione è riservata alle categorie sordienti a ragazzi junior e se assoluti vedrà impegnate nelle tre sessioni di gara ben 500 atleti in rappresentanza di 27 società sportive provenienti da tutta Italia tra le presenze in vasca atleti vincitori e detentori di titoli tricolori conquistati negli ultimi campionati italiani e una selezione degli atleti della nazionale giovanile di nuoto guidati dal tecnico federale Walter Bolognani presente nella due giorni di gare intanto lo scorso fine settimana la scuola nuoto del centro sportivo M2 di Campo di Pietra ha organizzato una domenica con le famiglie al termine del primo trimestre dei corsi Amelia Mascioli la piscina del centro sportivo M2 ha ospitato tanti piccoli atleti che sono scesi in vasca per una giornata che è stata dedicata a loro si guarda come il nostro programma con la scuola nuoto alla fine di ogni periodo appunto che coincide appunto con la fine del mese di novembre in genere ecco celebramo un appuntamento che possa coniugare all'interno dell'impianto le famiglie affinché possano condividere i progressi dei bambini e chiaramente vivere con noi una giornata di festa per cui tutta quanta nostra scuola nuoto insieme chiaramente allo staff tecnico dell'M2 e appunto alle famiglie finalmente tutti insieme all'interno dell'impianto anche questa è una cosa bella dopo insomma un periodo un po' in silenzio abbiamo festeggiato questa prima tappa e quindi i nuovi brevetti che verranno consegnati ai bambini la nostra scuola nuoto è una scuola nuoto federale noi siamo appunto dal 2008 una scuola nuoto federale che vuol dire che tutti quanti i nostri tecnici sono tecnici fin in regola chiaramente con gli aggiornamenti laureati in scienze motorie seguono e seguiamo quindi una programmazione indicata didattica dalla federazione per cui tutto quello che accade all'interno del nostro mondo non è assolutamente lasciato al caso c'è una programmazione specifica attenzione ed edizione ai nostri bambini ed è giusto quindi anche condividerla con le famiglie una volta che il percorso ha raggiunto determinati step una scuola nuoto che accoglie i più piccoli per poi arrivare ai più grandi che comunque portano a casa delle belle soddisfazioni assolutamente sì partiamo dalla base appunto dalla didattica di base con l'obiettivo di alimentare il gruppo sportivo come sai il gruppo sportivo M2 ci sta dando tantissime soddisfazioni proprio oggi alla festa dello sport a Regione Molise verrà premiato il nostro atleta Alessandro Trevisi che lo scorso anno ha portato i valori insomma del Molise in Italia perché ha conquistato la medaglia di bronzo dei 100 stie libero e il lavoro parte proprio dai piccolini cercando come dire di costruire solide radici da cui poi perché no far germogliare dei meravigliosi fiori alberi il prossimo appuntamento del centro è il Memorial Don Guglielmo sì il mese di novembre è intenso come vedi sì Memorial Don Guglielmo edizione numero 11 al momento sono una trentina nelle società che hanno aderito al nostro invito 500 gli atleti in acqua anche in quest'anno c'è una convocazione dei giovani nazionali italiana ci sarà Walter Bolognani che è il selezionatore nazionale di squadre giovanili e poi ben quattro campioni assoluti che hanno vinto appunto di recente il campionato italiano assoluto insomma grandi nomi anche questo è un meeting dal target importante perché stiamo investendo molto sui giovani e il fatto che società fuori insomma del nostro territorio scelgano il nostro evento insomma vuol dire che la proposta che a livello di competitività diamo risponde alle esigenze insomma tecniche e anche degli atleti e questo chiaramente ci inorgoglisce senza dubbio allora siamo con Paola ti vediamo con una medaglia puoi raccontarci cosa hai fatto nella piscina del centro sportivo M2 io ho nuotato ho fatto stile d'orso rano e delfino hai conquistato questa medaglia ma hai vinto solo tu o l'hanno presa tutti l'hanno presa tutti e tu da quanto tempo fai nuoto? da un sacco di tempo domenica scorsa prima trasferta stagionale per la scuola mini basket campo basso impegnata sul parquet del palafraraccio di Isernia per il concentramento aquilotti al maschile gazelle al femminile bimbi e bimbe di età compresa tra i 9 e 10 anni per il team peraltro sabato in previsione un altro appuntamento di rilievo presso l'istituto comprensivo iovine di campo basso ci sarà la festa finale del progetto scolastico raccontami una storia che ha avuto il gruppo mini cestistico rosso-blu tra i fulcri torniamo a parlare di calcio regionale l'Ururi si è sbloccata in trasferta sul campo del Ferrante contro la Gioiese sono arrivati i primi tre punti lontani dal Fiorilli Vittorio D'Alessandro dirigente dell'Ururi un Ururi che torna a vincere lo fa in trasferta possiamo dire anche in uno scontro diretto con la Gioiese forse quando tutti si erano rassegnati al pari Marino insomma si è inventato questo gol tre punti fondamentali sì effettivamente poi le qualità di Marino non è che le scopro io è un ragazzo di categorie effettivamente superiori le qualità ce l'ha le ha dimostrate con un gol di rara fattura e abbiamo fatto questi tre punti erano da tempo che mancavano con una squadra che più o meno ha le nostre portate è stata una bella partita con due belle occasioni da parte di tutte e due è stata una partita maschera non cattiva complimenti a loro e veramente ci hanno accolto con una buona ospitalità e li ringrazio di questo sì nel finale animi un po' tesi dopo il gol di Marino il gol annullato alla Gioiese sì come dicono io non c'ero in linea non posso giudicare però chi di loro dire che il gol poteva essere regolare adesso solo con le immagini possiamo vederle ma sono cose che possono sbagliare gli albiti come è successo a noi altre domeniche ci sta bisogna anche amaramente accettare le decisioni arbitrali però si va avanti tutto qua tornando al vostro momento una vittoria che vi dà ossigeno una vera iniezione di autostima di fiducia perché mancava da quattro partite dove avete raccolto un solo punto sì sì effettivamente venivamo da un periodo molto brutto però sulle qualità della squadra sulle qualità del mister ci crediamo e siamo consapevoli che alla fine faremo il nostro campionato salvandoci con dignità e aspettiamo solo di migliorare come tutte le squadre il nostro campionato Nel torneo di promozione si è interrotta a 5 la serie positiva della Juveness i ragazzi di Claudio Di Niro hanno ceduto in casa della vice capolista Spinete Claudio Di Niro allenatore della Juveness la Juveness lo ricordiamo una squadra relativamente giovane che però ha messo in difficoltà da subito lo Spinete siamo stati un po' sfortunati devo dire lo Spinete sul campo loro insomma hanno fatto la loro ottima partita e devo dire è stata una bella partita ambito le parti certamente se noi riusciamo a fare qualche gol in più non abbiamo rubato niente però il calcio è così diciamo che loro hanno quel tour in più che fa la differenza in eccellenza figuriamoci in promozione Visser che cos'è questa cosa in più che è mancata alla Juveness? se tu prendi gol due minuti dalla fine il 3 a 2 su un calcio d'angolo nostro perché ci sono degli errori individuali non di squadra però non li vado a sintetizzare adesso perché ne parleremo durante la settimana però l'errore c'è stato è stato bravo tu re a crederci a recuperare una palla e metterla dentro in rete Per tutto il primo tempo sembrava che la Juveness tenesse banco il gol del pareggio è arrivato infatti al recupero del primo tempo dopodiché quando è ripartito il secondo tempo lo spinete si è rinvigorito Il primo tempo loro hanno fatto credo se non sbaglio un tiro in porta noi siamo arrivati quattro volte sotto la porta e purtroppo non abbiamo concretizzato io credo che se avessimo avuto la fortuna di mettere la palla prima dentro credo che oggi la partita era al nostro vantaggio sicuramente però devo fare complimenti solo agli avversari sono stati più bravi in questo senso sono stati più bravi e basta abbiamo perso la partita Cosa dirà ai suoi ragazzi? Ma niente noi stiamo lì perché stiamo lavorando bene oggi anche penso dalle immagini che si verranno abbiamo giocato un buon calcio fin quando il campo ha tenuto infatti il primo tempo è stato al nostro appannaggio però prendere quel gol a fine primo tempo a 30 secondi della fine primo tempo e subito dopo nel secondo tempo dopo 10 secondi calcio di punizione ti fa capire che la squadra insomma deve lavorare devo essere bravo io in questo devo lavorare un po' più sulla questione mentale cioè di stare un po' più attenti verso il finale quando rientriamo dal campo insomma il calendario adesso è favorevole alla Bois Vairano doppio turno casalingo per invertire la rotta dopo 180 minuti senza punti Thomas Calera presidente di questa simpatica compagine che è il Bois Vairano usciti e sconfitti sul campo della Criternina primo tempo non brillante però avete fatto un grandissimo secondo tempo sì un grandissimo secondo tempo che purtroppo non ci ha portato quello che volevamo per una serie di episodi io non parlo mai di episodi arbitrali però per una serie di episodi arbitrali che non ci hanno sicuramente favorito un'espulsione completamente inventata dall'arbitro e magari le vostre immagini potranno essere chiarificatrici da questo punto di vista è un altro paio di episodi onestamente piuttosto dubbi che ci hanno danneggiato capiamo che la categoria forse porta anche questa qualità della classe arbitrale ci teniamo il risultato però voglio sottolineare la grande prova del secondo tempo dei ragazzi che hanno in 9 contro 11 perché poi nel frattempo abbiamo subito anche un'altra espulsione anche quella secondo me discutibile hanno avuto almeno 2-3 occasioni da golle che potevano addirittura accorciare le distanze sul 2-1 ci abbiamo creduto purtroppo è andata è andata così c'è da dire anche che nel primo tempo dal mio punto di vista però magari mi sbaglio il gol del 2-0 loro è viziato da un fuorigioco neanche millimetrico anche abbastanza evidente perché vi siete svegliati però solo nel secondo tempo forse gli inserimenti in avanti no questo è un problema che analizzando la partita è un problema che abbiamo da inizio dell'anno è una squadra un po' a volte svogliata che si sveglia solo quando prende uno o due schiaffoni questo è un problema serio perché è una squadra che poi dimostra il suo valore quando sta sotto e quando deve recuperare ma quando deve magari fare la partita e cercare di portarla a casa prima che si comprometta ha qualche difficoltà su questo sicuramente dobbiamo lavorare dobbiamo migliorare e insomma ci sono anche tanti giovani in campo e questa è una cosa che purtroppo la dobbiamo mettere a conto tantissimi giovani l'obiettivo rimane primario quello della salvezza ovviamente assolutamente sì e poi togliersi magari qualche soddisfazione pensiamo a salvarci adesso a raggiungere una posizione tranquilla e poi vedremo il petacciato non è riuscito a bissare il successo contro il Montenero domenica nonostante la buona prestazione i gialloneri hanno ceduto al termoli 2016 Lorenzo Valeriani portiere del petacciato è arrivata questa sconfitta di misura qui con il termoli 2016 ma si è visto un buon petacciato dopo il 2 a 0 il petacciato ha cominciato a giocare non si è disunita ha rischiato anche di pareggiare poi alla fine è arrivata comunque la sconfitta ma la prestazione c'è stata purtroppo usciamo da questo campo da termoli senza punti e con tanto rammarico purtroppo è un difetto che abbiamo molto spesso e con il mister Mario Longo ci stiamo lavorando di migliorare i primi minuti ma purtroppo sono tutti ragazzi a volte i primi minuti non sono proprio il massimo io oggi ho giocato dopo tanto tempo io da agosto che non giocavo quindi avevo pulito qualche piccola tensione addosso però non abbiamo sfigurato penso che la gente di petacciato può essere orgogliosa che oggi ho una squadra che ha ambizione di classifica molto più alta di noi non si sia per nulla visto il divario tecnico un primo gol assurdo se mi permettete perché c'era fallo su bombace e quando il regolamento dice che se il giocatore atterra il gol non è valido perché c'è un giocatore a terra quindi il gol non era valido perché il giocatore era a terra quindi una direzione arbitraria molto molto discutibile passatemi il termine poi per il resto usciamo così con rammarico però convinti che se giochiamo come il secondo tempo il petacciato può fare i suoi punti potrà fare i suoi punti una squadra che effettivamente si ha combattuto in campo la classifica ancora però è deficitaria ma anche questa sconvitta può essere uno sprone per fare bene perché le individuità interessanti ci sono e una squadra che ha ampi margini di miglioramento la società la società ha fatto una scelta molto difficile cioè puntare sui giovani e sui genti alcuni di termoni quindi i risultati faticano ad arrivare però l'importante è lottare cioè non prendere più tutti quei gol che abbiamo preso all'inizio del campionato con la sconfitta per 6 a 0 ripartiamo da quello dalla sconfitta di misura martedì ne parleremo io parlerò con il mio mister del portiere per alcune cose che non ho fatto bene dopo tanto tempo che non ho giocato comunque il mister Mario Longo ha dato un'idea a questa squadra bisogna seguirlo bisogna seguire la società e lottare fino all'ultima giornata poi però la lotta deve essere questa cioè noi ogni domenica dobbiamo rendere i nostri tifosi fieri poi si vince o si perde nel calcio purtroppo abbiamo dei limiti perché la squadra è giovane però come ha detto lei delle eventualità ci sono e questi individui devono avere la tranquillità per giocare perché io ho una certa età noi diamo una mano a noi grandi però il futuro è loro io ormai ho una certa età sono agli ultimi anni però cerco sempre di spronarli come fa anche Mario come fa anche il mister Guerino di Tullio dei portieri cioè abbiamo D'Addario che è un 2005 in banchina oggi l'ho sostituito perché stasettimana non stava bene quindi noi abbiamo delle eventualità molto giovani però noi adulti cerchiamo di aiutare questi ragazzi questo è quello che facciamo in questa categoria potismo potismo è stata fissata per domenica 12 marzo dell'anno prossimo la data della seconda edizione della mezza maratona provincia di Sernia città di Venafro nelle scorse settimane Massimiliano Terracciano e Agostino Caputo presidenti dell'Atletica Venafro e della NAI società organizzatrici della manifestazione si sono riuniti per trovare una data che potesse risultare attrattiva per i podisti soprattutto quelli del centro-sud ma che potesse altresì evitare inutili conflitti con gare consolidate e che fanno numeri di spessore bene è tutto per questa edizione del nostro TG Sport buon pomeriggio grazie a tutti Grazie a tutti.